Bravissimi, piano, 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 e poi andate avanti i tasti, vai, bravissimi, bravissimi, vai, bravo Davide, bravi tutti, vai. Ioi, bravo, vai, inizia, vai, vai, mi do il voto, Ioi, vai, 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 Ioi, ioi, lei, Ioi, 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 Davide, Ioi,овой, Ioi, 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 se la distrae voi, brava, ammazza di un tempo veloce, brava, bravissimo, ok, vai, bravo Diego, bravo, vai, vai, solo ricordi, bravo, bravissimo, e siccome siete stati bravi, bravi, l'ultima cosa che facciamo è andare via e tirarla fuori, stiamo accendendo Vincenzo, per ringraziare il Zempai, bravissima, bravissima.